Ormai mancano pochi giorni all'avvio dell'undicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema e delle Arti i Milleocchi che si terrà a Trieste presso il Cinema Ariston dalle 14 alle 20 settembre prossimo con anteprima a Roma alla Cineteca Nazionale i giorni 11 e 12 settembre. I Milleocchi propongono un programma che annulla la distanza tra novità cinematografiche e retrospettive intrecciando per il pubblico di oggi capolavori del terpassato e scoperta del cinema delle presente. Performance di assoluto rilievo nell'edizione del 2012 con l'omaggio a Valerio Zulvini che giungendo nelle trentennale della sua morte si presenta come la più completa personale del regista sin cui realizzate ospite alla serata inaugurale del Festival sarà l'attrice serba Milena Dravic splendida interprete di Le Soldatesse e Le Fingio e Girato nel lontano 1965 da Zorini nel territorio jugoslavo. Sullo schermo pellicole indimenticabili proiettate nelle migliori copie in 35 mm la ragazza con la valigia con l'incantevole Claudia Cardinale ventunenne agli esordi, la prima notte di quiete con Aladin e Delon ma anche i suoi primi cortometraggi. Le proiezioni saranno accompagnate dagli interventi di critici, collaboratori, familiari e cultori del cineasta. Tutti il regista spicca Francesco Paolo Vecchiali da sempre suo estimatore e grandissimo ospite sarà il grande attore Omeron Tonutti che omaggerà Zulvini leggendo Nino e la poesia di Umberto Saba in cui il regista progettò il film. Il Festival di Mille Occhi è stato ideato dall'associazione Anno 1 con la Cineteca delle Friuli e il Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale ed è realizzato tra le altre cose con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia, Comune Trieste e Fondazione CRT nonché della Fondazione Benefica, Aleberto e Catterlin Casali.